sapete che sono sempre stato onesto in vita mia non ho mai detto niente che non fosse vero non ho mai dato falsa testimonianza che la stessa cosa non mi sono mai nascosto non ho metto con una cosa per un'altra e oggi vi dico che ho più paura di perdere oggi a fifa che perdere il derby domani sera un saluto da di ben trovati sul canale è vero più paura di perdere adesso che domani sera perché fifa lo conosciamo ragazzi e come è fatto e quindi andremo a affrontare l'inter in questa domenica di campionato ho detto sempre che quando c'è di mezzo milione nazionale mai sondaggi come non li ho fatti prima olimpico sono fatti per italia polonia non riesco a fare oggi non li ho fatti per italia portogallo quando c'è il milione nazionale ragazzi italiana ovviamente non me la sentirei proprio di usare queste squadre contro risultare per i gol a parte che non sia la carriera che quella è un'altra cosa che fare una carriera col mio diciamo sarebbe poco divertente derby di milano partita molto sentita molto importante che vanno un pezzo di stagione alla fine è più forte lì intellettamente quattro stelle e mezzo ma loro primeggiano in attacco 89 85 primeggiano centrocampo no centrocampo è pari 81 81 primeggiano difesa 82 80 loro hanno pagato tutto l'attacco mentre abbiamo appoggiati tutti i tre reparti perché ovviamente i car di candreva perisic sono più forti di iguain suso e celanoglu allora andiamo giocheremo con la maglia rosso nera anche se fifa ci consiglia la maglia bianca per il milan già pronto gestione squadra non ha rum mai in porta rodriguez romagnoli musacchio potevo provare caldara ma preferisco provare musacchio abate destra che è tornato 80 ragazzi da fifa 14 che abate non va un 9 non superiore a 79 biglio 86 che si 78 mi porto pakaio con 80 non porto burin e porto che si use guain e celanoglu potrebbe entrare castiglieco che può giocare a sinistra ora porto al posto di alilovic può giocare sia anche a sinistra che più che altro è veloce molto più di 19 86 a 69 e speriamo ragazzi speriamo di fare una buona partita anche perché ragazzi sappiamo dalla partita di controllare da soul stars che andanovic credo scusa è un portiere con cui non ci può ragionare su fifa abbiamo battuto tegea con la rizza balaga in porta abbiamo battuto portieri molto più insidiosi di andanovic al mondo e l'abbiamo avuto noi era e però ragazzi andanovic è sempre stato un problema su fifa come guardate qua anche queste tiracci qui che sto provando come lo è anche stato buffon nei fifa scorsi andanovic da presenza è sempre un grosso problema da battere anche perché è alto e forte soprattutto finalmente almeno per i debbi non c'è un san siro buio come era in nel pronostico di milano olympiakos perché dal giro a 17 se già che il san siro di sera e questa ombra è proprio buio proprio spento come stadio non capisco assolutamente questa grafica grafica che ha fatto e speriamo che ti sei risolto di va 18 almeno per i big match per i grandi partite sfida a distanza negli anni guain stessa età un gol a 4 però credo che negli alza molto più zittoso di guain perché ce l'hanno ecco guain la maglia che indosso anche i ragazzi seguito tutto calcio sto su facebook mettete mi piace alla pagina non è pubblicità culta no la pagina non è mia però faccio sponsor sponsor pubblicità perché fanno maglie veramente poco 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 prezzo e vi consiglio di andarci a dare un'occhiata poi ognuno compra quel che vuole san siro mi sembra piuttosto luminoso qui da chi fa 16 lo era poi dopo hanno spinto all'anno viceversa di coschini al mirando a zamò a vestino brosovici frutano per i vicini in grani cardi sostituti martinez lautaro borca valero che tabalde gaglialli nevrai d'ambrosio quadelli per scelta tecnica non ci sono titolari né cadreva né devrai quindi secondo me portano e miranda sono più scarsi meno forti ecco però sappiamo che anche giocassimo conto sta benedettese sarebbe un problema donaruma vatten usacchermagnoli odriguez biglia bacario co bonaventura su seguenne c'è la noglucuturone che si motolivo castiglieco cadara calavera in panchina io vi dico che un pareggio ora e domani sera matrebbe benissimo e speriamo che fifa non ci faccia degli scherzetti come spesso ci succede per avere un esempio guardate per il pronostico di italia polonia subito parla dentro verso i car di donaruma dopo due minuti l'inter si fa pericolosa bacario co c'è la noglucutu fuori ancora il turco va a giro troppo tardi ma la ventura ribattuto suso suso deve uscire fuori paese amore leva la palla abbiamo provato a tirare 13 minuti la provata a te c'è nei car di aiuto ai car di aiuto i cross su fifa sono impossibili bravo rodriguez ovviamente poi la palla torna guardate come li saltano politano questo è gol bravo donaruma brava pare a spazzare su trova il tigua in niente ovviamente niente ovviamente niente ovviamente non ci provano neanche ad andarci sulla palla non ci provano nemmeno perisiccio fa il fenomeno i car di questo è gol donaruma ragazzi che sofferenza adesso lo fanno da calcio d'angolo me lo sento lo fanno da calcio d'angolo fanno da calcio d'angolo bravo bacario ovviamente la palla tornerà loro l'arbitro ha ravvisato un fallo e ha concesso la punizione al minano fortunatamente funziona politano bravissimo romagnola pari manelli destra al volo angolo perché non è lì perché quando guardo palla così in attacco non riesco a recuperarla questo lo questo qui c'è da un mezzo gol qui c'è da un mezzo gol qui c'è da un mezzo gol bravo donaruma 35 minuti ancora 0 0 ma il mio praticamente si sta animando le unghie andano che ci si sta animando le unghie abate dai abate dai abate si fa recupera da ma dai suso mette dentro le navoli che ovviamente arriva ritardo perché io cross non li azzecco ma invece gli altri mi riempono sempre di gol dal cross dai non possono bravventura e biglia perdermi un uomo così meno male ha sparata completamente fuori in via di gianluigi donna rumba ragazzi perché filtrate fifa 19 non vanno mai non ce la fai mai a lanciare un giocatore perché sbagliate questi passaggi perché me li fanno sbagliare puntualmente tutte le volte si fanno sbagliare i passaggi non c'è una volta che tu riesca a fare un passaggio per inserimenti o di intercetto giusto guardare un passaggio filtrante sbagliato e vi dico che ho anche il passaggio assistito ho il passaggio assistito ragazzi e oltretutto quando arrivi lì che ti basta il passaggio per lanciare il giocatore a rete praticamente da solo spunta il controllo sbagliato e la palla va all'avversario colitano questa mi sa di gol questa mi sa di gol bravo romagnoli guardate qua guardate ma è normale è normale secondo voi una cosa del genere cioè se è normale ditelo e io sto zitto guardate romagnoli ha regalato pallone in golana gli altri non la fanno mai questa cosa qui non la fanno mai non la fanno mai e se la fanno recuperano comunque palla a loro volta invece della maggior parte delle volte lì dai suso dai suso dentro col tipo l'avventura col tipo l'avventura sblocca il derby ma aspettiamo 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 perché fifa è imprevedibile l'itra già fatto 7 in porta e non ha fatto gol ha fatto gol bonaventura che gol che ha fatto ragazzi a volte arrivi davanti i portieri te la fanno sbagliare apposta poi è bastato bastato un controllino rete di bonaventura rete di bonaventura ragazzi ci porta in vantaggio il 50 settesimo mettiamoci già sulla difensiva e speriamo che l'inter ragazzi non cominci a farci smattare cosa che nel primo tempo ci ha già fatto fare sezione accennano aglu e li portano via palla così da niente da solo ma come si gira li portano via palla vabbè non lo voglio sapere iguain calcio da fuori rimediere in palli vabbè esserci angolo si entra che si per vacaio speriamo non me ne debba pentire ne ho giocato in aria buonaventura ovviamente ovviamente ribattuto guardate come passa i cardi se l'avessero fatto a me sebro già incontro per l'altra parte bravissimo rovesciata gol rovesciata liberata avventura c'è la novlu qualcosa che c'è baccaioco c'è anche difesa dell'inter loro palla in difesa non la perdono guardate la come escono un palleggio non c'era sempre palla per politano addio palla per politano addio palla per ricardi che da mettere mani alla faccia sinistra esce c'è la novlu enterà castigo e da mettere le mani le mani avanti anzi le mani che non è uscita di molto è sopra la traversa buonissima prestazione c'è la sostituzione di accangere un ovlu ma c'è bisogno di un po' di vincita soprattutto per i contropiedi che non ancora capitola tra il contropiede bravo castiglieco a perdere palla subito abate val cross buonaventura appoggia perché sì ma in realtà per nessuno biglia biglia non trovava archi temporeggia castiglieco baccaioco perde palla biglia prima di darla baccaioco esci donna rumma bravissimo ragazzi sto sudando 80.000 che tra balde che tra balde non possono prendere gol adesso sarebbe proprio un morale bravo romagnoli dai castiglieco debba l'avventura per ora il match winner iguain raguain forse nella castiglieco prima vabbè buon avventura giro bravo andano vabbè non è che il mio tiro fosse granché 30 secondi la deve buttare su la butta su in questo finale uh i cardi no no non possiamo prendere gol adesso perché è finita e il milan spugna san zero e spugna san zero il milan spugna san zero interista eh spugna san zero interista ma ce l'ha fatta ce l'ha fatta il nostro milan il nostro milan a a battere l'inter va abbracciare che tabalde due cambi baccaioco perché si castiglieco per cianoglu non hanno cambiato poi di tanto la sua partita bravissimo donna rumma secondo me il migliore in campo che ha evitato la goleata dell'inter altra vittoria ti importa 5 a 3 per l'inter l'inter non ha praticamente tirato un porto tutto il secondo tempo ma a noi ci sta bene così ci vediamo per la champions league prima possibile lunedì e state bene ragazzi ciao a tutti iscrivetevi lasciate like e ci vediamo prestisi ciao a tutti ragazzi grazie alla visione